Ah, ah ah, ah ah Cortana, che succede? Non lo so Resisti! Non è lì per spazio! Dobbiamo entrare! È tardi, Epi. Non è lì per spazio! Cortana? Sono qui. Un alo? Installazione 03, dove l'Infinity ha trovato le coordinate di Requiem. Allora perché lo superano? Perché il compositore non è sull'anello. Cosa aspetti? Quella stazione non si salverà da sola. Inseriscimi nella console. Sotto ufficiale CST Master Chief a base CST. Mi ricevete? Sì, ti ricevo. Sono Sandy Tilson della stazione Ivanov. Siamo sotto attacco. Cercano il manufatto dei precursori che avete preso dal lava. Come fai a saperlo? Dottoressa, proteggete quel manufatto finché non arriviamo. Fate tutto. Ma che mi ha detto quella stronza sicuramente dopo la nostra prima partita a scopo? Cortana. Eppure io lo chiamo più col suo vero nome. Correggi la poccio. Sì, ma non credo che cosa dovrà meglio da subito. Ora capisco perché l'Infinity... Cortana. ...sono il tuo più grande successo e tu mi detresti. Sì, ma non riesco a fermarlo. Come su mia bocci che va a ser un cielo. Spero sappiate perché sta accadendo tutto questo. Devo dire che al momento la mia obiettività non mi è di grande aiuto. Aspettate. Adesso scegliamo. Il dispositivo che avete trovato era un'arma di precursori. Il comandante di quella nave la rivuole? La rivuole? Non intenderete rimuovere? Non può lasciare questa stazione, lo sapete, sì? Non abbiamo scelta, dottore. Non si tratta di scegliere. Ci sono voluti tre mesi e è la nave più grande del CST solo per trasportarlo qui. A meno che non siate molto più forti di quanto sembra, quella cosa non andrà da nessuna parte. Puoi far accedere Cortana al registro di carico della stazione? Perché? Se non possiamo muovere il compositore non deve poterlo fare neanche il didatta. Oh, un attimo. Qui abbiamo investito anni di lavoro. L'inventario riporta sette mine avoc ad alto potenziale. Una sola potrebbe distruggere la base. Mi spiace, dottore. Trasferite il personale ai centri di evacuazione. Quando le torrette avranno aperto un barco, avrete poco tempo. Farò in modo che sia possibile attivare a distanza le cariche nucleari. Al prossimo salvataggio potreste darci il tempo per fare i bagagli? D'accordo. Hanno compromesso lo scafo. Il didatta ha preso il compositore. Portate via questa gente. L'ha preso? E come? Contatta il ponte di volo e trova qualcosa per il carico. Un attimo. Sta succedendo qualcosa. Cortana, puoi accedere alle difese della stazione. Non rispondono. Cortana. Chief. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS di QTSS di QTSS di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Queste persone sono morte. E ne moriranno altre se il didatta raggiunge la Terra? Ti assegneranno un'altra I.A. Forse un altro modello Cortana, se Alzi lo permetterà. Te lo puoi scordare. Non sarò io. Questo lo sai, vero? Sto preparando un Brotsward nell'Hangar C11. Quello che ti ha fatto la bibliotecaria ha funzionato. Cortana. Non è finita. Non è ancora. Non ancora. Sto preparate problema. Non è chiaro. 200 chilometri alla nave del didatta una volta a bordo troveremo il ponte si sposta ancora gli scudi del caccia non reggeranno l'iperspazio no ma quelli del didatta si quello era lui infiniti via libera ricevuto chief ti conviene allontanati un po batteria primaria fuoco centro procediamo con l'incursione ricevuto saremo in posizione se serve portate i nostri saluti al didatta infiniti chiudo cosa facciamo adesso piano b nonostante nonostante contana no nonostante nonostante